In questo video ti dirò come ho fatto guadagnare 1000€ ai miei iscritti e come sto continuando a farli guadagnare. Sicuramente se guardi i miei video da tempo sai che ho un canale Telegram dedicato ai bonus app. Cosa sono i bonus app? Ci ho fatto diversi video spiegazioni al riguardo, quindi vai a recuperarli. Ma in sostanza ci sono delle applicazioni che pagano gli utenti che le scaricano. Se ti stai chiedendo il perché queste applicazioni paghino, te lo riassumo dicendoti marketing, pubblicità. Ma se vuoi approfondire guarda il video che ti lascio qui nelle schede. In questo canale io e il mio team andiamo alla ricerca di queste applicazioni che pagano. E una volta trovate le andiamo a condividere solamente alle persone che fanno parte di quel canale. Ci sono applicazioni che possono pagare 5-10€ ma anche altre che hanno dei bonus casuali che in alcuni casi sono arrivati anche a 50.000€. E ti invito a vedere quest'altro video che ti lascio nelle schede. Chiaramente la maggior parte delle volte è difficile raggiungere quella cifra. Ma guadagnare anche solo 50 o 100€ così a gratis per aver scaricato un'app sicuramente è ottimo. Quindi perché i miei iscritti hanno guadagnato più di 1000€? Principalmente per due motivi. Il primo è che ci sono più di 10 applicazioni che stanno pagando. E tra queste si va dai 10 ai 50.000€ di guadagno. Ed ogni giorno centinaia di persone sfruttano queste app per mettersi qualche euro in più da parte. E ci tengo a precisare che non si tratta di fortuna o gioco d'azzardo eccetera. Queste applicazioni pagano e basta. Non è come girare la ruota della fortuna o grattare un gratta e vinci. Il secondo è che poco tempo fa avevamo messo una nuova app che dava bonus per un tempo molto limitato. Ed alcuni iscritti sono riusciti a vincere ben 1000€ solamente con quell'applicazione. E chiaramente vi lascio anche lo screen di una chat con uno di essi. Oltre alle app nel canale andiamo a parlare anche di nuovi potenziali business. E l'ultimo più remunerativo è sicuramente il progetto SCM. Quindi se vuoi avere più informazioni su questo business automatizzato vai nel link in descrizione. Oppure iscrivimi su Instagram SCM e ti risponderò subito. Ti lascio chiaramente il link del canale Telegram in descrizione e nel primo commento. Spero di esserti stato utile. A presto.